è stata una bella emozione diciamo perché non me l'aspettavo pensavo di essere andato anche abbastanza male al test invece quando ho visto il mio nome in graduatoria è stato molto molto emozionante ecco non saprei non saprei descriverlo un aspetto che ritengo fondamentale di questo corso e che comunque ti ha insegna a gestire l'ansia nei momenti in cui poi devi performare in cui nei momenti in cui ti trovi in quel banco da solo te con le domande e penso sia un aspetto fondamentale perché oltre allo studio ovviamente e le emozioni quel momento sono tantissime e bisogna cercare di rimanere sempre l'uso perché comunque è vero che un corso che ti prepara e professori qualificati però se non ci si mette del proprio ovviamente non si riesce non si riesce ad avere successo bisogna studiare bisogna avere costanza come tutte le cose anche perché ovviamente medicina comunque un percorso lungo in cui la costanza e la dedizione sono fondamentali e quindi diciamo l'impegno sicuramente è stato uno dei primi elementi poi anche la voglia di farcela e da un certo punto di vista anche la costante ansia che avevo al punto giusto mi ha mi ha dato una mano diciamo perché mi teneva sempre sul pezzo